Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di ColorBlog Oggi siamo con la 2012 12 Ah no, giocativo Sì, eccolo, eccolo È là, è là, è là, guardatelo, è là Con i capelli blu Allora Allora, andiamo Allora Andiamo Qua c'è Giocattino Giocattino, dove cacchio sono? Giocattino non c'è il video Vediamo di notte Perché lui è il protagonista del video Oh, Giocattino è vivo Ci sono 318 mila idioti È caro Giocattino, vieni Ciao, Giocattino Giocattino Quello che salta, ragazzi È lui Giocattino, perché mi sei sempre vicino, cacchio, 2012 E lui purtroppo non poteva essere Si è messo un nudo Purtroppo non poteva Purtroppo non poteva essere Non poteva parlare Oggi non siamo in videochiamata con lui Quindi non poteva Non poteva parlare Sì, ce ne sembra Siamo in videochiamata Non poteva Non c'è no No Non poteva parlare Non poteva parlare C'è il suo cugino Ragazzi, vedete questo qua giallo? È il cugino di Il cugino di Gio Dai Gio, vai via Il cugino di Gio Allora, ragazzi, è bellissimo Il gioco Insieme a Gio Bellissimo Ma non parlo Sarebbe ancora bello Se parlasse Quindi lui potrà scrivere in chat Infatti ora li scrivo Scrivi in chat Gli ho detto Scrivi in chat Perché lui non può parlare Tra noi Cioè lui non può parlare Quindi poverino Devo scrivere in chat Ogni secondo Per parlarmi Scusa Chi ti ha detto di fare i versi? Vai lui lì Ma perché è cretino Allora, andiamo Leng Leng No Gio Sì È morto Vai È morto Povero Gio No Aspetta No Non mi uccide Ok Che cacchietta ha fatto? No Uovo 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 È andato via l'uovo Viola È mio Sono in finale Giù ti fa per me È laggio Poverino è morto E vabbè Mi dispiace molto per lui Però c'è questa qua che è cretina Dai Non muore mai Blu 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 È impossibile vincere con lei Perché lei È di livello 7 contro il livello 25 Ma non è possibile Tu sei di livello 7 Buah No Lei è di livello 7 Io sono di livello 25 Se non avete visto gli altri episodi di color block Ditegliela Simon 10 Perché lui è un po' pazzo Allora 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 Ci siamo Vai sul bianco No Allora ragazzi La mia finale È bellissima Vincissima No Tanto come fa Il vincitore Cos'è quello? È la pila È la pila È la pila mia Giù è qua Perfetto È la pila mia Ok Mi raccomando Di poco Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Scrivi in chat Ok Mi raccomando Mi raccomando Ok Allora Ragazzi Purtroppo Io non posso rispondere Al piccolo Dojo Perché C'è un partito Ogni volta C'è Mi arrivo in finale Ma poi ci sono i cracchini Come Scusa ma come hai fatto A perdere Ma non c'è su Dojo Vai Dojo No 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 Ciao Io almeno 112 Nuova Giallo 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 Eh Giallo Lo volevi Che perdeva Lo volevi Lo volevi Lo volevi Giallo Lo volevi Eh Il tuo incantesimo È l'incantesimo Malefico Ti guarda perdere Alla partita Giallo Giallo Sei scemo Però dai Giallo Sei scemo Giallo Vai No Giallo Giallo è troppo forte Giallo è forte Perché prima Lui giocava Prima di me Poi Io l'ho scaricato E lui era più bravo Di me Aveva più livelli Poi Però Ci sono state Modifiche E la vinco Ma no Ma non hai vinto Ma non hai vinto Ma ti hanno fatto Bad Hai perso Giallo Hai perso Giallo Tutti vogliono Vincere Ma te Hai vinto Hai perso Giallo Ma me Stai fermo Va bene Non mi dire Che è giallo scemo No Giallo è scemo Allora Come dicevo Nessuna scema Come dicevo Avevo Pre Lui Aveva il gioco Da prima di me Quindi lui aveva più livelli Solo che Gli si è buggato il server Gli si è crashato L'hanno hackerato Quindi lui L'ha fatto da capo E purtroppo Ora A meno Di livelli di me Io sono di livello 25 Lui di livello 6 Purtroppo Ma mi piacerebbe Che lui Avesse livello 26 No Ma sei in una mappa di color Cos'è successo? Cos'è successo? Ciao Grazie Joe Io corro nell'auto Perché me stai facendo? Damme la bella E ce la compriamo Oh che bello Sta qua Ciao Ciao Io sono in cielo E sono stellato Joe mi ha mandato in cielo Quindi sono stellato Tra uno secondi Non mi interessa Che gioca retino No Oggi è stato il più fortunato Ragazzi Questa è l'ultima partita di oggi Perché il video Perché ora devo andare a fare Un picnic Con il mio amico Teseo07 Quindi devo andare a fare un picnic Quindi non ci saranno video Per oggi Per oggi Raga Per oggi Per oggi Non ci saranno video Perché sarò tipo Fino alle 6 5 e mezza Poi mi devo fare il ban Devo fare alcune cose E niente Vai Sono volato Ho vinto Sono il più forte Disperto 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 Ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video E ciao 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 Ciao